dobbiamo stare almeno a 1.60 e poi di sotto va bene si va bene ottavio sentito ti posso spiegare tutto non aspetto altro allora ti ricordi il giorno della mia promozione certo che lo ricordo mi avrei mica mentito su una cosa così importante no 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 allora sono diventato manager certo però lavori in un cantiere no io non lavoro cos'è un hobby sì più o meno mi hanno licenziato